Siccome questa storia qui mi ha stancato, e mi ha stancato pure parecchio, vi dico anche che io mi disimpegno dal fano calcio dopo questa stagione, per cui i fanesi, che sono bravi, forti e che sono capaci di fare tutto e a combattere contro tutto, si occuperanno loro di fare la squadra dell'Alma. Si chiude l'era Gabellini per il calcio fanese. A fine stagione me ne vado, tuona con tono perentorio il presidente dell'Alma stamattina in conferenza stampa. Sono veramente stanco di questo clima che si è creato attorno alla squadra. E sulle ragioni di questo divorzio a fine campionato Gabellini ne ha per tutti, a cominciare dai tanti tecnici che fioccano sul web, che dettano ricette e soluzioni quando va bene e insulti e invettive personali quando va male, a dirigenza e giocatori. E' senza freni il presidente che con un misto di sentimenti che vanno dalla rabbia alla delusione, conferma però la sua fiducia al collettivo, nonostante la posizione di fondo classifica nella quale si trova al momento attuale la squadra. Sono veramente stanco, dice. Dietro l'Alma ci sono persone che lavorano a testa bassa per il bene della squadra e vengono continuamente insultate. Come si può andare avanti così? Ma onorerò il mio impegno fino in fondo. Mi sono stancato di fare il donkey shot contro il mulinevento, per cui questa città non reagisce in maniera razionale a certe situazioni. Siamo sempre ad alzare l'asticella in una situazione in cui l'asticella la posso alzare solo io. Quindi questo qui mi sembra anche un tantino pretestuoso per tanta gente che ci gira attorno a questo ambiente. La società dell'Alma, prima società di questa società a fare dei tornei di caratura nazionale, eccetera, ragazzi è completamente lasciata a se stessa. Subisce critiche da ogni genere. Cioè voglio dire, qui si rischia veramente di farmi odiare una cosa che hanno. Ma sono anche le istituzioni a cadere sotto la scura di Gabellini. Re di non aver investito in un progetto che all'inizio tutti avevano sposato, ma il cui peso è solo lui a sostenere. Il calcio dice lo specchio di ciò che è diventata Fano, una città immobile e senza piani di sviluppo. Nessuno investe in una città così. Ed io sono stanco. Sto ancora pagando i debiti per le passate stagioni. Gli impianti dovevano essere adeguati, ma tutto è rimasto fermo. Per preservare il campo siamo costretti ad andarci ad allenare a Pesaro. Bene, le istituzioni. Vi ho dimostrato che le istituzioni non è che è massimo serico, io non è che devo colpire massimo serico. No, qui c'è un problema, da guzzi in poi. Qui si disinteressano di tutto. Dalle strutture non c'è un piano, non c'è una pianificazione delle infrastrutture. Noi dobbiamo preservare i mancini perché ospitiamo il Venezia, il Pordenone, grandi club come il Parma, eccetera. Abbiamo un campo dei militari dove ci alleniamo e siamo costretti a girovagare, a pagare campi per cosa? Ma dove sta l'istituzione? Perché non dà una mano a questa che è l'unica società che effettivamente in questo momento ha una rappresentatività importante? Allora, se a Pesaro abbiamo questo campanilismo che loro sono i nostri, tra virgolette, nemici sportivamente parlando, voglio dire, allora loro programmano un'attività. Noi qua siamo affidati alla buona volontà di una persona che si mette qua e tappa i buchi man mano che vengono fuori perché, ha capito, poi questa cosa stanca. E adesso mi sono stancato. Ora però bisogna uscire dalle secche e puntare alla salvezza. Il direttore sportivo assicura che faranno acquisti riparatori, ma bocche cucite su quali reparti verranno toccati nella nuova campagna acquisti? Sicuramente stiamo vivendo un momento di difficoltà, questo è fuori dubbio. I giocatori e il mister sono consci di questo. Non è il momento questo di parlare di mercato, nel senso che abbiamo ancora tante partite da affrontare. La società sa quando sarà il momento, quello che deve fare. In questo momento la priorità va a Bassano. La società, lo ha manifestato il Presidente, io lo ridico, farà di tutto per rinforzare questa squadra e far sì che il cammino sia più agevole.